Il nostro sport al party stadion, abbiamo una selezione di oggi. Acaba di arrivare al stadion. Stiamo al quattro ore, già tardi, orario di Denver, California. Non sta completo, completo, Romana. L'entusiasmo, non sta qua, non sta bene. Veniamo con voi oggi, accanto, ma non è sempre. E ora non sta qua, non è sicuro. Non è sicuro, signor Presidente Gianfrancisco. Stiamo lavorando. Gravassona, eccetera. Non è sicuro, signor Presidente Gianfrancisco. Sto completo? Non è sicuro. Sto. Non è sicuro, signor Alex. Mattia, Chief, Alloy Room, Yanga, Gary, Sto completo. Lachman, Hilski Mölder, Stapieto Tavarasi, Sümder, Mirano, Dami, Celino Estiano, Gino Van Castle. Chefe di Delegazione, Alexander Molina. È l'amore di Massimo Ossi della selezione. Dunger, Clenzo Mölder, Tati. Altria, Lajuno Pesco Cinzia. Azzan, Sanchez, un piccolo gigante. Martinos, Chiazino Peters, Quentin Iacoba. un altro peggio è un gandito che si è Antonia e non so anche il bambino che si è sicuro che io non voglio trattare che vado da metà i che tu vai e lo che mi aggoste è il che vado e il patronto che mi aggoste è il besta di non live Save the best and last. Ah no, di Michael Maria. Michael, non stai completo? Sì, è anderno.